raccogliamo prove raccogliamo prove raccogliamo prove per un processo penale ormai inevitabile sandra zampa green pass obbligatorio anche nei supermercati nei centri commerciali e del pd questa credo è collaboratrice di speranza che tutto dire noi raccogliamo prove e questa è una prova poi restando nella legalità dovranno assumersi le loro responsabilità molto gravi perché sono crimini contro l'umanità e discriminazione sono reati molto 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 gravi raccogliamo prove raccogliamo prove raccogliamo prove conservate giornali fotografie sugli smartphone video sono elementi importanti vi invito anche a iscrivervi al mio canale alla prossima video pillolina